Adesso chiedo a Piero Amerio, grazie, che ci ricorderà la persona nelle pratiche di vita della comunità. Io vi chiedo scusa, vorrei parlare del seduto, avendo un ginocchio più vecchio di me, che mi ricorda... No, ma starà da solo, non devi mica stare così, ma porra, no, gli mettiamo sotto un bicchiere. No, no, è il mio compito, chiedo scusa, vai. Ma è un compito spaventoso. Prego. Va bene. Contrariamente alle mie abitudini, si sente? Contrariamente, no. Sei con le mani, ciò per il microfono. Provo a stenermelo da solo. Questa è proprio mancanza di tecnologia in piedi. Non mi resta. No, togli la mano, togli la mano. Un tempo Torino era la città dell'automobile, non dimenticatelo, delle tecnologie. Adesso è la città dei poveretti che giocano a mano. No, mi sono seduto... Mi sono scritto, contrariamente alle mie abitudini, questo intervento, perché invecchiando si divaga di più e avevo paura di essere troppo lungo. Ho l'impressione che sarà lungo anche così. E prego, no, anche perché è un po' tardi. E prego, l'amico felice, senza pietà di interrompermi. Mi è andato mezz'ora. È giusto, mi pare, anche se è una frase fatta, che io ringrazio molto gli organizzatori di questa giornata per avermi invitato, perché, come dicevamo con Gabriella prima, molti sanno della lunga amicizia tra me e Augusto, che è andata anche un po' al di là delle contingenze professionali, accademiche. I nostri incontri erano occasioni anche umane, devo dire, per me preziosissime, perché, richiamando il senso degli inizi, soprattutto di quel momento in cui io e Augusto siamo entrati nella psicologia sociale, anni di cambiamento, di costruzione, di passione e di problematiche. Nei nostri incontri io riuscivo sempre a trovare conforto, non per un qualche, perché Augusto era un positivo. E io ho sempre apprezzato questa sua capacità di vedere in positivo i problemi. E non solo, come tendevo a fare io ogni tanto, in chiave, vedo qualcuno che sorride perché se ne accorgo. Per cui, quando con Bruno Zani si è trattato di dare un titolo a questo mio intervento, il termine persona mi è venuto immediatamente in mente, perché quello che mi è rimasto di Augusto, ho tentato di scriverlo anche nel mio ricordo che ho fatto di lui sul GIP, sul giornale italiano di psicologia, è stato proprio un incontro di persone. D'altra parte, per fortuna, se state ricordate qui quelle righe dell'intervento che sullo stesso GIP aveva fatto Sarchielli, che hanno ricordato come per Augusto persona avesse anche un profondo valore concettuale, teorico-pratico, come del resto ce l'ha avuto e ce l'ha, credo, anche per me. Allora, il problema che mi sono posto scrivendo queste poche note, è stato quello di dire guardiamoci attorno, guardiamo quella carica umana, etica, profonda, che il concetto di persona porta con sé, e poi guardiamo quanti in questo nostro mondo non sono persone, o sono quasi persone. Allora mi sono chiesto, non essendo Papa Francesco e non facendo problemi di evangelizzazione, ovviamente, mi sono chiesto come può operare la psicologia di comunità. In questo nostro tempo, percorso da molte contraddizioni, tra quei due grandi problemi che in modo diverso la traversano, è che sono il problema dell'individualizzazione e il problema della globalizzazione, che sono stati visti entrambi come estremamente negatori del concetto di comunità. Vi ricordate tutti il Missing Community di Bauman? Io con Bauman ai suoi tempi ho anche polemizzato, nel senso che secondo me non era tutto giusto. Però, allora, chiedendomi questo, mi sono ricordato, ricordo a voi, parlando di psicologia di comunità, che quando si parla di ricerca e di intervento, la psicologia di comunità ha cercato di unire questi due concetti. Molto spesso si dimentica cosa vuol dire unire. Unire nel senso di fare dell'intervento anche uno strumento di ricerca e di pensare che a poco valgano gli interventi se non hanno dietro una fase conoscitiva profonda che deleghiamo in generale alla ricerca. Ecco, ho parlato personalmente di una psicologia di comunità tra clinica e politica. La clinica non è più tanto di moda, visto questo che sta succedendo in quasi tutte le asle ormai. La politica di moda lo è molto poco, ma io ho usato questi termini nel loro significato, se mi permettete, più nobile. Volendo indicare da un lato che noi non possiamo non considerare occupandoci di casi singoli, di casi singolari, come diceva Levin, l'ottica della clinica, l'ottica della clinica. Dall'altro lato, occupandoci di casi che stanno dentro il sociale, non possiamo lavorare su un sociale generico. lavoriamo su un sociale che è politico nel senso classico del termine, cioè lavoriamo su individui che stanno dentro un contesto che è quello che conosciamo tutti, perché è quello in cui ci siamo noi, dove, bene o male, la politica in senso lato vive su tutti. Allora, il discorso qui, ecco, sto andando fuori, come vediamo, perché è il mio costume, no? Che cosa resta da dire per questo inserimento dell'individuo nel sociale? Perché ne avete parlato tutti stamattina, gli interventi, è chiaro. Quello che io vorrei semplicemente sottolineare, forse è inutile, è che noi non viviamo in qualche forma di società per una scelta, non siamo esseri sociali per scelta, ma siamo esseri sociali perché questa dimensione di vita sociale è profondamente radicata nelle strutture psicobiologiche della specie come prodotto delle vicissitudini evolutive che la specie ha vissuto. D'altra parte, siamo anche esseri individuali e non solo sociali, perché fin dalla nascita diventiamo sociali nel senso che senza il contorno del mondo di comunicazioni che ci circonda appena nati, le nostre qualità di base di cui il bambino fin dalla nascita è dotato non potrebbero attivarsi concretamente, ma siamo anche individuali perché siamo riconosciuti dai caregivers come noi. Non siamo bla bla bla, siamo Pierino, Giovanni, Viola, Eugenia. Un nome è poco, ma il nome è siamo noi e questo riconoscimento continua per tutta la vita in fondo. Ecco, allora ho riflettuto e con Augusto di questo parlavamo quando discutevamo proprio di persona all'interno di quel sociale in cui lavoravamo. Anche il vivere come individui non è una scelta. È vero che la società in quanto esseri sociali esercita su noi la società un'influenza costante sia sul piano delle risorse materiali, sociali, culturali, umane sia sul piano più generale delle rappresentazioni, dei sistemi di pensiero, di quel pensiero anche intuitivo che nasce ma alla fin fine poi è ciascuno come essere individuale che deve far fronte ai problemi della propria esistenza gestendo se stesso e le situazioni mediante scelte, decisioni e attività che pur quando sono imposte e lo sono spesso lo impegnano, impegnano ciascuno di noi in prima persona. vedrete che quando invecchiate ve ne renderete ancora più conto come ce ne rendiamo conto noi più anziani. D'altro canto riconosciamo che questa vita individuale non è una vita sempre facile perché alla fin fine ciascuno riesce a gestirsi nella misura in cui riesce ad avere ad approfittare di quelle risorse che solo l'ambiente sociale gli può offrire e non parlo solo di risorse materiali ovviamente ma educative di tutti i tipi di igiene ecco restiamo per un attimo detto in questo tempo di globalizzazione la globalizzazione ha sicuramente con le sue reti nel cyber space ha sicuramente ampliato enormemente le possibilità di comunicazione reciproca di messa in contatto reciproco e forse anche permette nuove espressioni all'individualità e tuttavia non ha certo eliminato le disuguaglianze sociali culturali eccetera non vi sto a fare l'esempio delle masse che ci circondano e che non sono solo i migranti i bambini che muoiono di fame a milioni per volta eccetera ma veri e propri schiavi 60 milioni di migranti attraversano il mondo e milioni peraltro forse 30 40 milioni sono stimate dall'ONU le persone in vere e proprie condizioni di schiavitù tutto questo basta allora dove il concetto di individuo viene a mostrare le sue crepe è lì che nasce il concetto di persona nasciamo individui ma diventiamo persona la persona ha un valore di fondazione per l'essere umano sto citando Kant non cito americo nel senso vi ricordate anche psicologico che diceva Kant perché l'essere umano ha la capacità di rappresentarsi a se stesso e questa capacità è unica e perciò è unica la persona la persona perciò non può essere mai considerata come un qualcosa che ha un prezzo perché è tutto un prezzo nella vita tutto la persona secondo Kant no la persona non può mai essere un mezzo diceva Kant è un fine è chiaramente un valore morale che possiamo considerare sia nell'orizzonte di quella religiosità che in fondo ispira il testo kantiano ma che vale anche per i laici in fondo ecco persona è individuo elevato a valore diceva tanti anni fa Bobbio ed è l'individuo nella sua vita con gli altri allora il problema che occupandoci della persona su un piano che non è soltanto soltanto e tra virgolette ovviamente filosofico generale che non vuole essere solo etico ma che vuole essere psicologico e sociale ecco occupandoci della persona in questo senso non possiamo che ricostruire quella storicità che ha fatto questo percorso del concetto di persona accompagnando il percorso dell'individuo fatto persone forse sono un po' confuso perché sto riassumendo cose che erano chiarissime nella cosa scritta ma forse mi sono anche fatto capire e cioè siamo tutti individui nel senso che per me è psicobiologicamente necessario è psicobiologicamente un dato di fatto che viviamo come individui ma non tutti siamo persone persone diventiamo quando siamo riconosciuti come tali ricordo visto che qualche nome è stato citato Marcel Moss grande maestro di tutte le scienze umane contemporanee che nel 1934 mentre Hitler iniziava a negare la persona di circa 8-10 milioni di europei Marcel Moss in una conferenza famosissima a Londra richiamava la fragilità di questo concetto e scriveva 20 pagine bellissime raccolte e poi vedo che Denise accetta perché è un testo famosissimo di Moss ecco voglio dire come allora che cosa e Moss diceva l'individuo necessita di questo riconoscimento per essere persona autoriconoscimento forse ma soprattutto etero riconoscimento allora che cosa dobbiamo riconoscere a un individuo per essere persona non vi tedierò qui con elenchi certo ma se leggete il becoming person della Marta Nussbaum lei ha ripreso il concetto di capability da Marti a Sen e ha tracciato un quadro molto preciso di queste capabilities 10 complicative ho ripreso questo quadro anche nel mio libro che sta appena uscendo che è intitolato vivere insieme tanto per essere sempre in argomento no lasciamo perdere quali sono queste capabilities è chiaro che vanno dalla prima essenziale che è la vita teniamo conto dei bambini che muoiono appena nati o che vivono tre giorni che è la vita e poi il corpo tutto fino a quella capability a quelle capability più generali che ci consentono di partecipare in modo attivo alla vita della comunità di cui facciamo parte che cosa allora è chiaro qui c'è un grosso volume di pagine che saltiamo su tutto quello che nel mondo moderno si è mosso in funzione di questo riconoscimento in fondo lo stato di diritto di cui le nostre democrazie sono pur zoppicanti e certe volte a dispetto di Salvini anche funzionanti in fondo hanno delle leggi che tutte ma guardiamoci attorno e scopriamo che c'è qualcosa che va al di là del piano politico giuridico quindi tra clinica e politica ma la clinica inteso come clinica sociale diventa altrettanto importante che la politica perché a questo punto è stata forse ci sono stati molti psicologi ma ce ne vantiamo noi soprattutto in psicologia di comunità che abbiamo messo in luce quanto nonostante ci fossero dei quadri in cui l'essere umano può vivere come persona quanto fosse importante riprendere la persona per portarla a vivere realmente in quei quadri sono queste cose che noi abbiamo chiamato empowerment dopodiché empowerment non è una parola psicologica è nata come tutti sapete al tempo delle lotte dei neri prima del riconoscimento americano in quell'epoca però con l'empowerment poi è molte cose lo si può fare in molti modi eccetera eccetera ma io avendo a mente l'idea di persona eccetera a me è parso che potesse e avendo in mente la socialità e contemporaneamente l'individualità dell'essere umano avendo in mente il nodo psicologico del personale insieme al nodo politico che ciascuno bene o male è costretto a vivere ecco io ho pensato che l'action research parlando eminentemente a degli psicologi o dei lavoratori del sociale fosse una dei uno dei metodi che meglio potesse esprimere questa vocazione da un lato questa vocazione teoretica di unire ricerca intervento dall'altro questa vocazione che non è più una vocazione questa operazione pratica di portare le persone o se volete di portare gli individui parlo di individui ma anche di gruppi ad essere persone non ciascuno per sé ma dentro dei gruppi tutto quello che avete detto cara Monica sui gruppi ricordando anche quell'antica ricerca che abbiamo fatto io Augusto anche con la Speltini tanti anni fa in fondo i filosofi l'hanno scoperto anche certe volte un po' più tardi sto valutando un filosofo che amo come Habermas quando addirittura ha messo lo scambio che avviene nei gruppi alla base di quei suoi atti di linguaggio e di quello scambio linguistico su cui sarebbe basata la soggettività del mondo della vita del mondo della vita fenomenologico eccetera ora io non so se nei nostri gruppi di action research e concludo sperando di restare nel tempo si possono dare le condizioni di quella soggettività tipica del mondo della vita forse con tutto il rispetto per Husserl ho anche dei dubbi che si possa considerare un mondo della vita indipendentemente dalla ragione pratica del resto Moscovici diceva che ricordo con molta amicizia qui perché ricordando Augusto si ricorda anche Moscovici diceva l'heritage marxiste da Meriot e ci siamo divertiti su questa roba ma io non lo rinnego questo eritage marxista volevo dire ho dubbi che si possa parlare di mondo della vita staccato da mondo pratico per questo è venuto il problema pratiche della vita in quel titolo ma pur se non a questi livelli certamente il clima che si crea nei gruppi dell'action research è estremamente importante per due o tre motivi un motivo che direi è clinico sociale nel senso che i gruppi lavorano attorno a un problema è il lavoro dicevo prima parlando con Denismi venivano in mente i gruppi che facevamo con Maison Neuve ai tempi lontanissimi in cui nasceva Nanterre come università parigina un lavoro pratico perché si tratta di risolvere una situazione qualunque una classe una formazione un pezzo d'officina un accidente di far star zitto merio delle cose pratiche nello stesso e le persone gli individui sono costretti a scambiarsi le opinioni ma scambiando queste opinioni nello scambio passa qualcosa di molto di più da un lato intanto si tratta di mettere insieme delle risorse quindi tu non solo fai dell'empowerment individuale ma fai dell'empowerment sociale nel senso che non solo attivi risorse ma metti insieme capacità e questo è comprensibile se fatto bene eccetera eccetera ma anche crei si crea nel gruppo un clima che gli psicologi conoscono molto bene perché è il loro pane quotidiano che è fatto di scambi dove c'entrano sentimenti affetti problemi introspettivi personali messe in campo di cose e a questo punto diventa un gruppo ricco tutti e non sempre di quell'umanità che è quella che sta alla base del concetto di persona o almeno di quel concetto di persona che indica un altro modo di considerare l'umanità rispetto a quello di Trump tanto cito Trump perché è facile sapete quanti muri sono in costruzione in questo momento nel mondo oppure che già stanno provo a dire 60 sono 60 i muri qualcuno ricorda i 3000 metri di reticolato elettrificato che divide lo Zimbabwe da quell'altro i suoi vicini no perché chi se ne frega sono neri poi oltretutto non si vede no ma allora in questo tempo di muri certo gli psicologi parliamoci chiaro l'ho scritto bene qui ma ve lo dico malo modo hanno un piccolo potere nel confronto del grande potere in cui siamo immersi la psicologia sociale ha parlato un po' troppo poco di potere forse considerarlo un po' di più certo gli psicologi hanno ma è un modo per non tacere è un modo per in qualche verso in qualche maniera partecipare alla possibilità di intravedere comunque senza nessun eccesso di ottimismo ma di vedere almeno una linea di tendenza verso un tipo di società che per i nostri figli e nipoti sia forse un po' meglio di quello in cui siamo cresciuti e viviamo grazie mille scusate un po' grazie a tutti grazie a tutti